Avete mai fatto un errore con gli accenti in russo? Ok, questa è una delle parole dove potete fare un errore, ok? Dipende dall'accento che cambia il senso dell'espressione. Per esempio, se state sotto la doccia dite Я в душе, ok? Se parliamo dell'anima, di una persona diciamo В душе, che significa nell'anima.